Siamo con Francesca Blasoni, anche a lei chiediamo così un commento su questa prestazione del Tavaniaco, oggi 25 punti di differenza in classifica tra Fiorentina e Tavaniaco non si sono visti in campo e quindi come valuti un po' questa partita? Sì assolutamente, siamo entrate bene in campo con la giusta mentalità e quindi siamo riuscite a mettere in difficoltà la Fiorentina anche se poteva sembrare una cosa impossibile e quindi siamo molto contenti della nostra prestazione. Diciamo che il Tavaniaco ultimamente ha fatto bene con il Milan, ha fatto bene oggi con la Fiorentina, quindi forse con le grandi dà qualcosa in più, con le piccole fa ancora pochino di fatica? Può essere che la pressione giochi dei brutti scherzi, però dobbiamo imparare dalle partite con magari le squadre più piccole dove non siamo entrate con la giusta mentalità e adesso in queste ultime cinque gare che ci rimangono dare tutto quello che abbiamo e cercare di portare più punti possibili. Adesso c'è un mese di pausa quindi magari anche voi potrete ricaricare le pile e recuperare quelle infortunate che comunque dall'inizio della stagione bene o male mancano. Sì, diciamo che abbiamo tante infortunate quindi speriamo di cercare di recuperarne il più possibile e poi di rientrare col trossassuolo e essere più competitivi possibile.